Per contribuire alla riduzione degli sprechi attraverso un uso più razionale dei prodotti, il Comune aderisce alla campagna promossa dal Last Minute Market e Slow Food, che da anni operano per diffondere dai bambini agli anziani abitudini corrette sugli stili alimentari e di consumo. L'operazione consiste nel recupero e riutilizzo di beni invenduti e scartati, ma ancora utili, per destinarli a chi ha più bisogno. Gli sprechi alimentari sono una parte importante del nostro prodotto interno lordo, il 2,4%, ci costano 40 miliardi di euro. Abbiamo lanciato questa campagna un anno contro lo spreco, l'ha adottata il Parlamento europeo e ha varato una risoluzione a gennaio di quest'anno. Poi l'abbiamo tradotta in pratica, per esempio, quello di adottare, come abbiamo proposto e incominciamo a fare qui a Napoli, il Last Minute Market, il recupero di cibo ancora buono che si può dar da mangiare a chi ha bisogno. È chiaro che è un orizzonte, ma nella stessa risoluzione ci sono gli elementi per poter ridurre gli sprechi da qui al 2025 del 50%. Significherebbe una finanziaria, tanto per fare un raffronto economico. Con la sottoscrizione della carta Spreco Zero, Luigi De Magistris è il primo sindaco italiano fuori dal nord-est a raccogliere l'invito della campagna contro gli sprechi alimentari diretta dal professore Andrea Segri. Un decalogo di buone pratiche per sensibilizzare l'opinione pubblica sulle cause e le conseguenze dello spreco, sulle modalità per ridurlo e la promozione di una cultura orientata ai principi della sostenibilità e della solidarietà. Fa seguito alle altre nostre iniziative con Zero Vice, Kinometro Zero, bisogna interrompere la spilare del consumismo universale. Si buttano alimenti che si possono ancora utilizzare, non bisogna sprecare, ci sono incentivi per chi utilizza prodotti che stanno per scadere, che certe volte non vengono acquistati nei locali commerciali appunto perché stanno per scadere. Quindi una filosofia di vita contro gli sprechi, economica ma anche politica, cioè che preservare i territori, utilizzare bene le risorse è anche una lotta alle povertà e alla disuguaglianza sociale. Domenica 16 settembre partirà da Napoli l'unica tappa italiana di Good Food Marche che arriverà a Bruxelles mercoledì 19 settembre.